Speculava su investimenti finanziari e non ne dichiarava i profitti che poi trasferiva in paradisi finanziari, ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Livorno. Si tratta di un 65enne di Bolzano, ex bancario, che vive tra Roma e Porto Azzurro. La Procura di Roma ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, bloccando i conti bancari nel canton Ticino per una cifra di 6 milioni e 400 mila euro, che è l'ammontare dovuto al fisco italiano. La Guardia di Finanza di Livorno ha operato tra Italia e Svizzera grazie alla collaborazione dell'autorità giudiziaria alvetica coinvolta con una rogatoria internazionale. Sono stati inoltre sequestrati tre immobili a Roma del valore di 600 mila euro e disponibilità finanziaria per un controvalore di 200 mila euro. L'indagato è un ex bancario, per anni ha fornito consulenze a cittadini e investitori non istituzionali a margine del suo lavoro presso la filiale romana di un istituto europeo di private banking, accumulando capitali prima collocati all'estero, da Andorra alla Svizzera, poi nascosti al fisco. Aveva tentato di regolarizzare i guadagni con lo scudo fiscale, ma le fiamme gialle di Livorno hanno scoperto che le somme oltre confine erano ben superiori a quelle dichiarate. In particolare in Svizzera aveva trasferito cospicui guadagni ottenuti con speculazioni finanziari realizzate in più paesi tra Olanda, Inghilterra, Francia e Lussemburgo.